Ti capita mai di sentirti stanca o stanco e di pensare di trasformare la tua vita? Beh, oggi ti sveleremo un segreto potente. Basta dimenticare la fortuna e abbracciare il potere della programmazione mentale positiva. Siamo davvero entusiasti di condividere con te questa tecnica che può fare la differenza nella tua vita. Quindi assicurati di seguirci fino alla fine per cogliere ogni sfumatura di questo approccio trasformativo. Prima di entrare nel cuore di questa pratica, lascia che ti spieghi il potere delle parole. Le parole possono fare miracoli sulla nostra mente e sul nostro stato d'animo. Quando adottiamo la giusta mentalità e scegliamo le parole con cura, possiamo dirigere il corso della nostra vita verso risultati positivi e di abbondanza. Quando abbiamo una mentalità positiva e scegliamo attentamente le parole che usiamo, possiamo orientare la nostra vita verso obiettivi positivi e un maggior benessere, non sottovalutiamo. Le parole che scegliamo possono influenzare il nostro modo di pensare, di sentire e agire, determinando il tipo di realtà che creiamo per noi stessi. Scegliendo parole di incoraggiamento, di gratitudine e fiducia, possiamo coltivare una prospettiva ottimistica che ci permette di affrontare le sfide con determinazione e cogliere le opportunità lungo il cammino. Oggi ci concentriamo su due parole semplici, ma potenti. Grande giorno. Queste parole non sono per nulla casuali, ma rappresentano un mantra che può cambiare radicalmente il nostro modo di pensare, agire e ricevere. Funzionano come una chiave per aprire le porte dell'opportunità e sbloccare il nostro pieno potenziale, invitandoci a vivere ogni giorno con ottimismo e determinazione. Utilizzando queste parole come mantra quotidiano, ci predisponiamo mentalmente a vedere il meglio in ogni situazione e ad essere aperti alle possibilità. Invece di concentrarci sulle circostanze attuali, mettiamo il nostro focus sulle potenzialità e sulle prospettive positive, aprendo così le porte a nuove opportunità e a una maggiore realizzazione personale. Ma perché proprio le due parole grande giorno sono state scelte per il loro significato positivo e l'efficacia nel plasmare la nostra mentalità e il nostro stato d'animo? La parola grande evoca immediatamente un senso di grandezza, di positività ed abbondanza. Associarla alla giornata crea un'aura di ottimismo e fiducia nelle nostre potenzialità. Focus sull'abbondanza. La parola giorno mette in risalto il momento presente, invitandoci a concentrarci sulle opportunità e sull'abbondanza che la giornata offre, anche nelle piccole cose, semplicità e facilità di pronunciare. Le parole sono semplici e facili da pronunciare, rendendo la pratica accessibile a tutti senza complicazioni linguistiche. La pratica della ripetizione delle parole grande giorno svolge un ruolo cruciale nella programmazione mentale, consolidando un atteggiamento positivo ed orientato al successo. Ma come possiamo incorporare questa tecnica nella nostra vita quotidiana? Ci sono diverse tecniche che possiamo utilizzare. Reminder visivi. Usa oggetti o note visive che ricordino di ripetere le parole grande giorno. Ad esempio, attacca note con queste parole in luoghi strategici della tua casa o del tuo ufficio. Associazione con azioni specifiche. Collega le parole grande giorno a momenti o attività specifiche della tua giornata. Ad esempio, ripeti queste parole durante la tua routine mattutina o durante la meditazione. Visualizzazione. Immagina la tua giornata come un'opportunità per il successo e l'abbondanza, incorporando le parole grande giorno nella tua visualizzazione. Affermazioni quotidiane. Ogni volta che pronunci grande giorno, aggiungi affermazioni che riflettono i tuoi obiettivi desiderati. Registro di successi. Tieni traccia dei successi ottenuti attraverso questa pratica per rafforzare la tua connessione con i risultati positivi. Incorporare la pratica del grande giorno nella tua routine quotidiana ti aiuterà a stabilire un'energia positiva che ti accompagnerà durante tutta la giornata, influenzando le tue azioni e le tue percezioni in modo davvero favorevole. Bene, non vediamo l'ora di essere testimoni dei tuoi successi con questa potente tecnica. Insieme trasformeremo la nostra routine quotidiana in un percorso verso l'abbondanza ed il successo. Grazie per essere stato con noi in questo viaggio di crescita personale. Se questo video ti ha ispirato, lascia il tuo commento per un grande giorno e non esitare a lasciarci il tuo prezioso mi piace. Iscriviti anche al canale velocemente per non perdere i prossimi contenuti. Ti auguriamo una meravigliosa e ricca giornata di successo. Ci vediamo molto presto nel prossimo video.